La situazione è questa, abbiamo cercato in tutti i modi con una grande operazione di screening e con un lavoro molto importante, soprattutto anche su Pesaro, di tenere il più possibile la curva dei contagi bassa e questo lavoro oggi potrebbe darci la possibilità effettivamente di tornare in zona gialla dalla prossima settimana. L'ufficialità di questa valutazione, che purtroppo come sapete è una valutazione che fa da sola il governo e soprattutto il Ministero della Salute in adesione all'idea che si è fatta il Comitato Tecnico Scientifico, dovrebbe arrivare nella giornata di oggi. Quindi nella giornata di oggi dovremmo avere qual è l'indice su cui le marche sono state misurate durante questo periodo. Ovviamente concorrono a creare questo indice non soltanto la capacità di contagio, quindi quante persone rischiano il contagio, se una può contagiarne più di una e quindi se si supera l'1% appunto si rischia di tornare in zona arancione o addirittura l'1,25% in zona rossa. Ma concorrono nella valutazione anche gli ospedali, posti letto, la situazione dei focolai. Quindi noi crediamo che ci sarebbero tutte le condizioni, visto che dovremmo essere rimasti sotto l'1 per tornare gialli. E devo dire che abbiamo veramente lavorato tanto affinché si potesse tornare gialli, così come si potesse tornare a scuola in presenza almeno per il 50% e 50% in dad. È una situazione molto difficile da gestire ma ce la stiamo mettendo tutta perché appunto la prevenzione che abbiamo fatto con lo screening e anche devo dire il risultato dei vaccini che ha un indice che è il più alto d'Italia, l'89,7% era l'altro ieri. Quindi stiamo cercando di dare il supporto alle politiche sanitarie e di sanità pubblica che il governo mette in campo. Grazie. Grazie. Grazie.